Grande inizio di stagione per il trofeo Abarth Selenia Italia 2018, corso con le Abarth 695 a 7 corse evoluzione, con motore 1.4 Multi Air da 215 CV e 500 a 7 corse con 190 CV. Il primo round si è tenuto sull'asfalto del mitico circuito Dino ed Enzo Ferrari di Imola, dove le piccole Abarth riescono sempre ad emozionare e a dimostrare di che pasta sono fatte. Una stagione, quella di quest'anno, caratterizzata da numerose novità. Innanzitutto il doppio turno di qualifiche ufficiali, la seconda svolta solo tra i migliori otto della prima per decretare una sorta di super poll. Novità poi per le classifiche che quest'anno sono addirittura cinque. Accanto alle classifiche assoluta, 500 e gentlemen, compaiono quella femminile e quella per gli under 18, a dimostrazione che con il trofeo Abarth Selenia il gruppo vuole supportare i giovani che aspirano a ottenere la licenza agonistica e vogliono entrare nel mondo delle competizioni. Fra i piloti invece gradite riconferme, quella del campione in carica Cosimo Barberini, del suo eterno rivale il finlandese Juso Pajuranta, lo svedese Robin Appelquist e il diciottenne bresciano Andrea Mabellini, protagonista di un'ottima stagione d'esordio nel 2017. A Imola, nelle due sessioni di qualifiche, è Barberini a imporre subito le sue capacità girando in un tempo di 2.03.126 davanti a Robin Appelquist in ritardo di 1.152 Andrea Mabellini e Juso Pajuranta. Anche in gara 1, nonostante una partenza non tra le più brillanti e alcuni problemi di surriscaldamento verso gli ultimi giri, non ce n'è per nessuno. Barberini mantiene la testa della corsa per tutti i 25 minuti di gara previsti, aggiudicandosi la vittoria. Accesissima invece la battaglia per i gradini più bassi del podio, con protagonisti un velocissimo Mabellini, Appelquist e un Pajuranta un po' offuscato. Mabellini è subito molto grintoso e alla Villeneuve riesce a passare Appelquist ed è secondo, ma la supremazia dura poco. Al terzo giro Appelquist si riprende la posizione staccando i due. I giochi sembrano fatti, ma ad un paio di minuti dalla fine Mabellini riesce a passare ancora Appelquist finendo secondo e facendo registrare il giro veloce. Allo svedese va ancora peggio, alla Rivazza, quasi sotto alla bandiera Scacchi, sbaglia e finisce nella ghiaia, lasciando la terza piazza ad un incredulo Pajuranta. Dietro a loro l'inossidabile Stefano Fiammingo Fischerman, veterano del trofeo che conquista la categoria Gentleman. Per la classifica Under 18 vittoria delle sedicenne Filippo Lazzaroni, primo anche nella categoria 500 a setto corse e per quella femminile di Aurora Corina. Dopo il primo anno di, diciamo, apprendistato per imparare la vettura e tutto, subito un secondo posto. Grande orgoglio per me, per tutto il team, per tutti gli sponsor, per chi mi aiuta ad essere qua, la mia famiglia. Veramente sono contentissimo. Meglio di così, non potevo andare, dai. Mi sono trovata molto bene, man mano che uso la macchina sto imparando a gestirla, sto imparando a comunque prendere confidenza con la macchina, la pista è molto bella, mi piace e adesso è finita gara 1, vedremo cosa succede in gara 2, sono contentissima di essere qui, per me è già un traguardo questo. Gara 2 inizia sotto un cielo che minaccia Quazzoni, come di consueto, a griglie invertite ma dietro la safety car a causa dell'asfalto vicino. Quando questa lascia la pista a prendere la testa della gara è Robin Applequist che dura un paio di giri prima di essere ripreso da Barberini. Come in gara 1 a questo punto diventa di nuovo spietata la battaglia per il secondo posto tra Applequist, Mabellini e Paiuranta che sembra aver ritrovato lo smalto perduto. Alla fine infatti è secondo davanti a Mabellini che costringe lo svedese fuori dal podio. A conquistare la classifica Gentleman stavolta è Gioga, mentre è sempre il giovane Lazzaroni in cima alle classifiche Under 18 e 500. Buon quinto il giornalista Alberto Sabattini a suo esordio sulla 695. È andata bene anche gara 2, era viscidissima la pista, bisognava stare attenti perché aveva appena piovuto e quindi i cordoli erano scivolosi. Dopo un inizio di gara dove c'era Applequist che dettava un po' il ritmo siamo riusciti a passarlo e ad allungare. È andata bene anche gara 2, per fortuna speriamo anche il resto del campionato. Prossimo round al circuito francese Paul Ricard di Le Castellet il 12 e 13 maggio.